Le sue canzoni ricche di allegria e vitalità sono ancora oggi la spensierata colonna sonora dell'estate. L'indiscutibile primato riconosciuto Edoardo Vianello, 78 anni, che ieri ha incantato il pubblico dentro d'acqua con le sue canzoni Siamo i Vadussi, Abbronzatissima o Tremarella, due ore di show dove il noto cantante ha coniugato ironia e comicità alla musica. Sappiamo che ha fatto la storia della musica italiana, qual è il suo pensiero sulla musica di oggi? Non ho pensieri perché non l'ascolto, non la capisco e quindi non mi interessa. Ha anche cenato qui dentro d'acqua, l'impressione sulla cucina per l'inia? Il ristorante dove ho mangiato è molto carino, molto caratteristico, ma comunque è molto carino. Un concerto per chiudere che cade nelle feste patronali dentro d'acqua, un comitato che vede quest'anno la presenza principalmente dei giovani. Qual è il suo appello per le giovani generazioni? Intanto mi fa piacere che ci sia una presidente donna, giovane e carina, che saluto, Carla. I giovani di questa ultima generazione stanno andando meglio rispetto a un paio di generazioni fa. Sono più curiosi, più attivi, evidentemente la crisi economica aiuta a sviluppare le idee e a capire che nessuno ci risolve i problemi, ce li dobbiamo risolvere da soli. Sul palco viene l'ho applaudito ai giovani che portano avanti le tradizioni, in particolare al comitato festa e alla sua presidente Carla Di Benedetto. Ci possiamo ritenere soddisfatti perché finalmente dopo molti anni di difficoltà siamo riusciti a riportare in auge quella che è la nostra festa patronale e sicuramente un nome che da tanti anni riempie le piazze, quindi un vero e proprio maestro della musica italiana. Questa sera i festeggiamenti si chiuderanno con il balo della pupazza. Questa sera i festeggiamenti si chiudessi mi Grazie a tutti.